È appena finita la partita tra Juventus femminile e Florenzia, la Juventus vince 6 a 1 e si porta un passo dallo Scudetto, penso le manchi solo un punto per vincere lo Scudetto a sto punto perché il Milan ieri ha pareggiato, e quindi adesso ci portiamo a più 8, mi sembra, dal Milan che è seconda e mancano 3 giornate quindi ci basta un pareggio e siamo matematicamente campionesse d'Italia. Nulla ragazzi, cosa volete che vi dica? È stata una partita unilaterale, nel senso, sì, la Florenzia in realtà ha avuto degli sprazi di partite in cui ha provato a creare occasioni. Giuliani mi ricordo ha fatto una gran bella parata sul 3 a 1, è vero che eravamo sul 3 a 1 ma sapete, se vai 3 a 2 magari loro prendono entusiasmo e la partita cambia, invece Giuliani non la scopriamo oggi. Bella parata e buono, allora le marcature vengono aperte da Lundorf che, diciamoci la verità, lei voleva crossare perché era veramente distante dalla porta, era tipo a destra nella tre quarti, ha fatto sto cross che non si sa com'è finito in porta, cioè nel senso ha proprio fatto boom. Insomma, vabbè, complimenti all'Undorf che mi sembra sia il suo primo gol in bianco-nero questo. Poi, scusate l'abbassamento di voce ma... Poi, mi ricordo, secondo gol, Boatin fa un cambio di gioco verso Cernoia, Cernoia mette in mezzo e Pedersen dopo un rimpallo fa il 2 a 0. Arriva anche il 3 a 0 prima della fine del primo tempo con proprio Cernoia, non mi ricordo chi le fa l'assist ma è un tiro... Diciamo che il gol è tutto di Cernoia perché è un tiro dal limite dell'area, quindi 3 a 0. La Florenzia fa un gol poi alla ripresa ma non serve a niente perché la Juventus fa subito il 4 a 1. Mi sembra altro assist di Cernoia perché la mette dentro e Stanskova, la insacca in rete di testa. Poi subentra Bonansea che serve per la doppietta di Stanskova e Stanskova dopo le restituisce il favore, serve in profondità Bonansea e Bonansea mette dentro il 6 a 1. Nulla ragazzi, non so cos'altro dirvi, io vi aspetto oggi alle 8 e mezza quando finirà la partita della prima squadra, ci sarà la live come sempre, non penso ci sarà Giovanni perché mi ha detto che arriva per l'orario del coprifuoco quindi penso arriverà verso la fine, dovrebbe esserci Riccardo quindi vi aspetto per il post partita Speriamo che non mi rovini la giornata, non parlo di Giovanni e Riccardo, parlo della Juve, speriamo che la Juve non mi rovini la giornata. Ciao ragazzi, e sempre fino alla fine forza Juve, in questo caso Juventus Women.